Nella settimana dal 21 al 27 novembre la curva epidemica segna un lieve decremento delle nuove infezioni. Sono stati registrati 10.392 nuovi casi di positività e un'incidenza accumulativa di 216 infetti per 100.000 abitanti. Tassi di nuovi positivi più elevati rispetto alla media regionale si sono avuti nelle province di Catania, Enna, Messina, Trapani e Siracusa. Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 60 e gli 89 anni. Anche le nuove ospedalizzazioni sono in lieve diminuzione. I dati relativi alla campagna vaccinale prendono in esame la settimana dal 23 al 29 novembre. Nel target 5-11 anni i vaccinati con almeno una dose si attestano al 24,73% mentre 65.553 bambini pari al 21,27% hanno completato il ciclo primario. Gli over 12 vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,87%. Ha completato il ciclo primario l'89,52% del target regionale. Hanno ricevuto la terza dose 2.769.855 persone pari al 72,37% di aventi diritto. Il Ministero della Salute ha autorizzato dal 7 settembre l'utilizzo dei vaccini bivalenti per la somministrazione della dose booster aggiuntiva agli operatori, alle persone di elevata fragilità e agli over 12 in attesa della terza dose, includendo anche operatori sanitari, lavoratori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza. Dal 23 settembre è consentito l'utilizzo dei vaccini bivalenti per la quarta dose, su richiesta dell'interessato a tutti i soggetti di età superiore ai 12 anni che abbiano ricevuto la prima dose di richiamo da almeno 120 giorni. Dal 1 marzo le quarte dosi somministrate sono 188.368 delle quali 169.475 agli over 60. di coriore ai 12 anni che abbiano ricevuto la prima dose di